Sono andato al Marolito perché mi hanno invitato, perché io non invado mai nessun campo e non ho nessuna presunzione di verità. Perciò mi hanno invitato i ragazzi che hanno occupato la scuola, mi sono fiondato. Io già stamattina ero con i ragazzi al Faro, poi sono passato alla Palacultura che c'erano i ragazzi dell'Archimede. Oggi mi hanno invitato qua e sono felice perché il miglior lavoro è con i ragazzi, perché è il luogo più importante, il campo educativo è la forza più grande che è l'essere umano e qualunque società per cambiare. Per cambiare le coscienze di ognuno di noi che diventano poi collettività. Lunedì o martedì andrò all'Archimede, cioè per me è il lavoro che faccio tra l'altro anche più volentieri perché è il lavoro dove si incide sulle future generazioni. Non perché abbiamo verità, io non cambio nessuno, ma il parlare, il sentire che l'istituzione è vicina a loro è un fatto importante, devono sentire che il sindaco, le istituzioni, sono persone che incarnano quell'istituzione devono essere persone normali, non assolutamente se facciamo sentire la distanza con le persone abbiamo chiuso.